Siamo con Giovanni Ghirardini che è la seconda vittima di questa bellissima e nuova rubrica che Teleromagna propone all'interno di Cavalli in Pista. Avete la fortuna di avere il rompiscatole Bob qua presente e di fianco a lui un'altra persona che si presta alle mie torture. È il fatto che vi rompo un po' le scatole, ci sta, no? Giovanni Ghirardini, il gentleman, il telecronista più adesso, abbiamo un attimo di... No, diciamo di no, in questo periodo no. Basta, ok. Quindi ti limiti a fare cose esattamente? Oltre la spesa a casa? Sì, oltre a guidare ogni tanto gentleman, sono allevatore soprattutto di Cavalli, quindi vengo a vedere, stasera ce n'è uno mio che corre. Chi è? È Dinamo Daghi, alla terza corsa. Poi lavoro all'ufficio tecnico a Cesena, sono gentleman, ogni tanto corro, poi sono dell'ambiente, dai. A Cesena vengo mai da quando ero bambino, qua si sta bene, anche quando non lavoro. Dire la verità, volevi andare al cinema, però non hai trovato il fin giusto e sei venuto qua. No, 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 proprio il cinema non ci vado mai neanche d'inverno quando piove, proprio io non sono uno da cinema. Allora, sai che questa rubrica prevede che tu ti sottoponga tre domande, una di cultura ipica, una di cultura generale e una di cultura sportiva. Da quale vuoi partire? Partiamo dall'argomento che so meno. C'è il microfono. Quella di cultura generale sarà quella che sbaglierò sicuramente. Allora, di cultura generale la domanda è questa. Allora, c'è una famosa canzone che si chiama E la vita, E la vita. Io ti volevo chiedere chi sono i cantanti di questa famosa canzone, di questo famoso motivo italiani. Quindi sono Rita Pavone e Giorgio Gabber, sono Renato Zero in compagnia di Lucio Dalla, oppure sono Cocchi, Renato e Iannacci? Questa la so, Cocchi, Renato e Iannacci. Molto bravo, si vede che lei è venuto sapendo che avrebbe partecipato al rompiscatole. La seconda domanda invece la faccio io, che è quella dell'ambiente dove lei ha più paura a esporsi perché è il suo ambiente. Allora, per quelli che non seguono l'Ippica, diamo anche qualche informazione tecnica. I cavalli, non tutti, hanno il freno. Allora, io volevo chiedere, lei mi può confermare che il freno non è a pedale? Sì, non è a pedale. Bene, quindi non si fa spingendo... No, no, no. A cosa serve quindi il freno ed esattamente che cos'è? Il freno è quel finimento, diciamo una corda che va dalla testa del cavallo subito dietro le orecchie fino al dorso perché il cavallo non pieghi troppo in avanti la testa, quindi anche per equilibrare l'andatura si tende a tenere la testa del cavallo verso l'alto anche per aumentare l'ampiezza delle gambe davanti. Ci sono anche i cavalli che non lo portano, che sono più liberi, comunque è quella che vediamo dalle orecchie quel filo, quella corda che arriva fino al centro della schiena, sul garese, diciamo. Certo. Bene, l'ultima domanda rimane quella sportiva. Io le parlo di un... Perché mi dai del lei? Perché quando c'è il microfono io davanti a una telecamera mi sento già stupido di mio per cui cerco di oggettivizzare dando del lei. È una mia forma mentis sbagliata sicuramente. Allora, un noto protagonista dell'atletica di vent'anni fa, adesso più o meno mi sbaglio, si chiamava Ben Johnson, che si chiamava Ben giusto perché erano andati a Londra quando è nato e c'era il Big Ben e hanno detto perché non chiamarlo Ben. Questo era la mia... Allora, Ben Johnson era un famoso atleta perché lanciava il martello, lanciava degli urli o correva i cento metri? Correvi cento metri e purtroppo fu anche doppato, mi ricordo, che fu squalificato. Vabbè, questo era diciamo un dettaglio che magari rende la cosa... Sai perché mi ricordo bene? Perché lui era all'Olimpiadi, non mi ricordo dove, che c'era il fusorario diverso e io con dei miei amici facemmo le sei della mattina per vedere la finale dei cento metri di Ben Johnson e giocavamo a carte fino alle sei per vedere questa corsa, quindi me la ricordo bene. Andiamo parecchi anni indietro, mi sembra. Sì, ho detto vent'anni ma potrebbe essere anche di più. Per me sono di più. Bene, comunque direi che Giovanni Garrardini è andato molto bene, e quindi lei ha il diritto di stare qua al Savio e riceverà una copia del brano Corro al Savio. Pensi che fortuna, che manderò anche a Zenicali che non gliel'ho detto perché mi ero dimenticato. Un 5 per sigellare questo grande avvenimento.